Allora, dottoressa, parliamo anche di benessere nel mondo del lavoro. È un altro tema che avete sviluppato. E qualcuno dice, ma che cosa c'entra con la carne, con le produzioni, comunque il benessere animale, con la sostenibilità? Perché? Però sostenibilità in qualche modo c'è, vero? Assolutamente. Diciamo che Azove ha voluto mettere al centro le persone, consapevoli del fatto che se ha raggiunto il cinquantesimo, questo importante traguardo è anche grazie alle risorse umane. Perché poi possiamo avere la più bella idea, possiamo anche coglierla nel momento, proporla nel momento perfetto, ma per l'esecuzione poi ci vogliono le risorse umane. E in passato sicuramente Azove è stata in grado di scegliere i migliori, i migliori che hanno creato valore, che hanno avuto idee, che le hanno portate avanti. E una sfida per il futuro, parlando appunto dei prossimi 50 anni di Azove, è altrettanto importante attirare i giovani, trattenere i talenti. Ecco che in questo è fondamentale anche creare una sinergia generazionale, perché oggi per la prima volta nelle nostre aziende in Italia si trovano a coesistere quattro, se non addirittura cinque, diverse generazioni. E ciascuna con prospettive, valori, linguaggi e anche attitudini verso il lavoro differenti. Quindi è importante... Il giovane non è appena arrivato, quello che non vede l'ora di andare in pensione, quello che nel mezzo dei cammini di sua vita con una certa esperienza e vede male il nuovo arrivato, perché dice questo rischio che mi porta via il lavoro. Ci sono a volte dinamiche contrastanti, non c'è questa grande armonia tutto sommato. Esatto, è proprio questo. E per questo motivo ho voluto dedicare un seminario all'interno di questi due giorni di celebrazioni per il cinquantesimo di Azzove, perché è un tema di grandissima attualità. E credo sia importante comprendere queste differenze, non in un'ottica divisiva, chiaramente, ma con la volontà poi di creare dei team di lavoro che siano anche diversi, cioè creare il mix vincente, perché io sono convinta che poi sia la differenza e la diversità di idee e anche di approccio che possano rendere vincente una squadra, una squadra di lavoro. Per esempio, faccio l'esempio in Boomers, il loro obiettivo quando entravano in azienda... E Boomers sarebbe l'età degli anni 60? Degli anni 60. Il loro obiettivo era entrare in azienda, fare un percorso di crescita, una carriera e arrivare alla pensione, possibilmente. Per i giovani questo concetto non esiste assolutamente. Oltre al lavoro c'è anche una vita privata, ci sono degli hobby, c'è un bilanciamento diverso tra vita privata e vita professionale. Quindi hanno bisogno di tempi, di spazi diversi. Questo per fare un esempio, ma per dire che effettivamente è importante comprendere, altrimenti non vengono comprese le esigenze e se non sono comprese le esigenze della persona, dopo la persona si perde. Quando invece abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di attrarre talenti e di trattenerli. Nel nostro settore ci sono stati via via inseriti anche tantissimi giovani che sono usciti dall'università. E devo dire che anche negli allevamenti, oggi stiamo assistendo a nuove generazioni che le prendono in mano dal padre, se non addirittura magari dal nonno. Quindi passaggi generazionali. Ci sono passaggi generazionali in un settore che indubbiamente non è facile. E aggiungo anche che ci sono allevamenti con la presenza di donne, e anche questo è un segnale dei nostri tempi, e di donne laureate, di giovani laureati. Quindi questo è un elemento estremamente positivo, perché ci fa guardare al futuro con entusiasmo e con ottimismo. Secondo lei che ha un'esperienza di moltissimo tempo, sempre nell'ambito delle organizzazioni aziendali, ancora di più la sfida diventa difficile quando entriamo in una realtà come questa, dove comunque c'è una componente dell'agricoltura, della tecnica, tecnologia, ma anche del lavoro manuale in certo qual modo, quindi in contatto con ambienti diversi. Quanto dovrebbe cambiare invece anche il mondo stesso del lavoro? Leggo un altro messaggio, stanno arrivando. Mi chiedo quanto tempo impiegano i bovini a smaltire tutti gli antibiotici che vengono somministrati per non farli ammalare. Per legge sono stati identificati, proprio per rispondere alla domanda, sono stati identificati i tempi sufficienti per smaltire gli antibiotici. Quindi, sottolineo quello che già avevo detto prima, quando si prende, si acquista la carne al supermercato, non c'è la presenza di antibiotici. Il fatto poi che ci siano degli animali che mai hanno subito un trattamento, ovviamente dà un plus ulteriore. Un'altra domanda, i disciplinari del Veneto sono più rigidi di quelli previsti a livello europeo? C'è il sistema di qualità nazionale che ha un disciplinare molto rigido, proprio volto a valorizzare la carne italiana, perché in effetti ci sono anche dei disciplinari di altri paesi europei che sono più blandi rispetto a quelli italiani. Ma la volontà dei produttori di tanti, non dico di tutti, ma di tanti produttori italiani è proprio quella di seguire questi disciplinari perché sono garanzia di benessere animale da un lato e di qualità certa e garantita per il consumatore. Abbiamo anche inserito dei marchi, abbiamo il marchio Qualità Verificata della Regione Veneto, sponsorizzato proprio dalla Regione Veneto, che il cui scopo è di valorizzare proprio le realtà agroalimentari del territorio o altri marchi come il Consorzio Sigilo Italiano che ha lo scopo di aiutare il consumatore a scegliere un prodotto italiano di animali allevati in Italia secondo i disciplinari di qualità verificata. Quindi questo è anche molto importante. Sono tutte informazioni che se uno le possiede riesce poi anche ad orientarsi in un mondo che è abbastanza complicato però riguarda anche la nostra salute ed è molto importante. Ecco, gli chiedevo quanto dovrebbe cambiare invece il mondo del lavoro? Perché lei ha fatto un'osservazione molto interessante però siccome c'è stato di mezzo un periodo di un anno e mezzo, barra due, di lockdown e di persone che sono rimaste a casa hanno rivisto tutti i propri parametri esistenziali non necessariamente così giovani. C'è chi si è visto la morte davanti e ha riconsiderato la propria esistenza. Il giovane sa dire di no perché non ha quelle reticenze neanche educative per cui non mi piace questo lavoro domani non mi presento o ti dico subito quanti giorni mi dai di ferie che orario ho e quindi ha questa spavalderia tra virgolette che è anche corretta ci sta nell'educazione che hanno ricevuto. Quelli che sono invece i famosi boomers dentro di sé lo sentono come esigenza di revisionare i tempi del lavoro ma non hanno il coraggio di dirlo perché ovviamente mirano ad arrivare questa benedetta pensione che è tristissimo però è veramente triste e vivono e sopravvivono insomma chi non può lasciare il proprio lavoro perché poi tanti hanno cambiato lavoro chi però non può farlo si tappa il naso e va avanti però in realtà dentro di sé non è più soddisfatto di quello che fa perché ha visto cosa c'è fuori ha visto l'altro mondo cioè dalla caverna in qualche modo si è aperto. È un qualcosa che deve far considerare una revisione importante avanti dei tempi della qualità del lavoro che viene dato in azienda no? Cosa ne pensa? A volte anche della sua esperienza passata. Certo, negli ultimi anni sicuramente c'è molta richiesta di lavoro flessibile di lavoro dopo il covid di lavoro in smart working e i giovani soprattutto guardano molto a questo aspetto. Sì, certamente sono interessati all'aspetto economico ma assieme all'aspetto economico chiedono anche la possibilità di lavorare da remoto chiedono la possibilità di avere degli orari flessibili quindi la sfida delle aziende va proprio in questa direzione perché non c'è più solo il lavoro ripeto in passato c'era un'attenzione importante al fatto di assicurarsi un lavoro più lungo possibile oggi invece si devono bilanciare tante cose e quindi l'azienda deve sforzarsi in quella direzione. Poi io credo che l'azienda debba anche trovare il modo di motivare sempre i lavoratori perché io credo che quando si lavora e soprattutto se si lavora in team la contaminazione tra persone tra competenze diverse sia sempre un arricchimento e uno stimolo per fare di più e meglio cioè se c'è la passione allora si riesce a lavorare e avere una spinta diversa perché altrimenti è chiaro che se si guarda il tempo per arrivare alla pensione o l'orologio per fare qualcos'altro il lavoro diventa effettivamente un peso io credo che la sfida di ogni manager sia quella di rendere il lavoro una passione tenendo però al centro le persone quindi sapendo valorizzare i talenti delle persone e aiutando anche le persone a migliorare perché ognuno di noi è di punti di forza e di punti di debolezza e quindi migliorare anche i punti di debolezza in modo tale che effettivamente si possa valorizzare al meglio la persona e quindi sentirsi nell'ambiente adeguato la persona giusta al momento giusto nel posto giusto Quali sono le nuove sfide che la vostra azienda però in generale comunque tante aziende si devono porre? Allora sfide ce ne sono tantissime oggi le aziende lavorano nella complessità dopo tutte le tempeste che abbiamo assistito negli ultimi anni c'è stato il covid la guerra russo-ucraina la crisi energetica la crisi del grano sono tutte situazioni che ci hanno insegnato che non c'è più una certa stabilità bisogna saper governare nella complessità che poi io aggiungo la complessità è divenuta una normalità ma poi in realtà le complessità sono sempre esistite quello che è cambiato sono i ritmi la frenesia le tempistiche e quindi la sfida è quella di intercettare i cambiamenti e riuscire a capire in tempi molto veloci cosa bisogna fare per competere quindi anche diversificare diventa una possibilità importante e anche la crescita per alleanze per linee esterne perché poi allora si arriva prima all'obiettivo unendosi si diventa più forti che è stato poi lo spirito con cui i soci fondatori di Azzove nel 1973 si sono messi assieme proprio con questo intento di unirsi per riuscire a competere in un mercato ecco perché se poi non ci fosse stata questa unione che poi può essere di esempio anche per altre realtà aziendali per esempio non avrete avuto accesso ai bandi del PNRR a progetti europei che ci possono essere dove si chiede comunque sempre una massa critica rilevante il settore carne in modo particolare quindi bovini allevamento eccetera è messo a rischio in discussione come c'era stato lanciato l'allarme tempo dietro oppure tutto sommato no non è così il settore dei bovini sicuramente in futuro dovrà continuare a lavorare nell'ottica della sostenibilità sostenibilità economica perché altrimenti gli allevatori non possono continuare a seguire questo tipo di attività ma sostenibilità anche ambientale sostenibilità sociale cioè sono tutti prerequisiti per il settore bovino ma per qualsiasi azienda vorrei aggiungere per competere in futuro assolutamente anche piccole aziende sono in grado di fare questo passo oppure è necessario anche un maneggimento di un certo livello quindi aziende di un certo tipo ma lo dovranno fare anche le piccole aziende perché i fornitori sceglieranno i partner che hanno certe caratteristiche quindi è chiaro è tutto commisurato alle dimensioni ma anche le piccole aziende per restare sul mercato dovranno fare lo sforzo di guardare a queste tematiche perché altrimenti non potranno andare avanti perché poi i giovani scegliono le aziende che hanno questo tipo di principi di etica allora dottoressa Marta Bagno no Marta Bagno sbagliato dottoressa grazie di essere stata qui con noi grazie a voi è stato importante perché abbiamo fatto un quadro completo e anche molto approfondito secondo me su questi temi e secondo me sarebbe bello anche avere più modo in altre situazioni in altre circostanze con la dottoressa Michela Tedesco direttore generale di Azzove di tornare perché come si diceva i nostri telespettatori fare più informazione fare diffusione di certi principi o che ci sono certe realtà diventa strategico importante e vediamo che adesso anche l'attenzione di voi che ci state seguendo e che ci ascoltate sempre allora grazie ancora del suo contributo grazie a voi grazie anche a voi i telespettatori di averci seguito e naturalmente poi potete anche rivedere la puntata e noi ci rivediamo presto grazie grazie a tutti grazie a tutti